C'ero dato Gesù Cristo e vanti con Maria. Carissimi amici di Radio Domina e TV Domina, ben trovati a tutti voi per questo momento di catechiesi e di formazione. Il titolo della catechiesi di questa sera è quello di due sere fa, quando inspiegabilmente si è spento il mio cellulare, non ha dato più segni di vita e dire che è nuovo, è uno degli ultimi, è uno dei più aggiornati. Il titolo della catechiesi di questa sera è Amoris Letizia o Familiaris Consorzio, Rottura e inganno del Cardinale Bergoglio. Questo è il titolo che già da solo basta dimostrare qual è il tema che tratteremo stasera. Domanda a tutti voi, un po' di pazienza nel seguire la mia trattazione. Come dicevo due sere fa, anche io devo avere pazienza come stesso nel riprendere un po' questa spiegazione, io dividerò questa sera la mia riflessione in tre momenti. Status questionis, quindi esaminerò come stanno le cose mettendovi dinanzi i documenti, uno quello di Familiaris Consorzio, l'altro il manifesto programmatico della falsa chiesa, il vergognoso e diabolico documento, niente affatto magisteriale del Cardinale Bergoglio con cui si rompe, va io mi stupisco che ci siano ancora cardinali, mi perviene notizia che mi stimino, che dicano Don Minutella fa bene, però bisogna rimanere nella chiesa. Ma quale chiesa? La domanda è quale chiesa è quella che guida Bergoglio? Perché che non è più la chiesa cattolica, questo è evidente a tutti, questo deve essere chiaro per noi del piccolo resto, nessun tentennamento, nessun dubbio soprattutto in questo tempo di quaresima in cui il diavolo manda orde di demoni, nessun tentennamento, noi siamo la chiesa cattolica che stiamo con Benedetto XVI, che abbiamo detto di no alle stravaganze pastorali di Bergoglio, alla dissacrazione benedetta, anzi diciamo maledetta delle chiese trasformate in osterie, ma figlioli cari vi rendete conto? E poi ci sono questi che dicono che però uno scisma è qualcosa di grosso, ma non lo dobbiamo fare noi, c'è già lo scisma, ma come fanno a non capirlo? Lo scisma lo ha fatto il Cardinal Bergoglio, falso Papa, noi dobbiamo solo prenderne atto, si dice ma siamo in pochi, ma non importa, ma noi anche se perseguitati, presi in giro, umiliati dappertutto, noi siamo quelli che abbiamo deciso di rimanere cattolici sul piano della ragione oltre che della fede, perché amori seletizia, questo documento datato 19 marzo 2016, costituisce la rottura ufficiale tra la falsa chiesa che detiene il potere, che ha le strutture, che sta in Vaticano, che è al servizio della massoneria, e che adempie loro malgrado, adempiono le profezie di Fatima e di altri luoghi, di Caterina Emmerich, c'è una chiesa stravagante, una falsa chiesa, noi siamo la chiesa cattolica, ma siamo in pochi, abbiamo persino un Papa che ci abbandona a noi stessi perché il suo silenzio ci addolora, questo silenzio reiterato fino alla fine, parlo ovviamente di Benedetto XVI, e poi ha ragione Anna Matto, non è che siamo poi così pochi, lo scrive lei, è proprio vero, smettiamola di dire siamo pochi, siamo pochi, ma comunque sia pochi o molti, quello che è importante è avere la chiarezza che noi siamo i cattolici, che tengono in piedi il patrimonio della fede di duemila anni, che con questo documento, manifesto programmatico dell'eresia, ha rotto, questa continuità è stata spezzata figlioli cari, è veramente drammatico il momento che viviamo. E poi dopo questo status questionis che ho introdotto già in modo abbastanza, diciamo, vemente, spiegherò che noi non possiamo più stare a contaminarci con gli eretici, perché se la chiesa di Bergoglio non è la chiesa cattolica, è una chiesa scismatica, allora noi che problema, io vorrei porre al cardinal Burke e agli altri, ma che problemi si creano questi uomini qui? Perché non vorrei che facessero l'errore dei re, vi ricordate l'Antico Testamento? È un messaggio che sto mandando loro, perché lo so che in un modo o in un altro può arrivare questo messaggio, umilmente, perché qualcuno sostiene che è rimasto colpito dall'umiltà, chissà che idea si fanno di me quando dice dall'umiltà di Don Minutella, perché al convegno di Roma dell'anno scorso dove c'erano i cardinali, tutti hanno potuto vedere che Don Minutella si è inginocchiato davanti al cardinal Burke, davanti a Monsignor Schneider, davanti al cardinale Bramul, ma insomma, ma Monsignor Schneider, ma che ci va a fare a parlare con Bergoglio? Avete vista l'immagine? C'è la foto, è andato da Bergoglio a chiedergli spiegazioni del documento stipulato con i musulmani, come se, capito, capito, fanno l'errore dei re, nell'Antico Testamento i profeti andavano dai re e dicevano, non cercate alleanze umane, non usate i criteri umani, perché c'è la profezia, c'è la parola che vi raggiunge, e qui è la stessa cosa, non bisogna usare i criteri umani, bisogna avere il coraggio, bisogna avere l'audacia profetica per il bene delle anime, per il bene delle anime, qui è in gioco la salvaguardia dell'identità cattolica, non è più roba da nulla, hanno occupato il Vaticano, va bene, con uno che non è il Papa, perché non è il Papa, il cardinale Bergoglio, in quanto il conclave è stato pilotato, e abbiamo noi una falsa chiesa che per giunta è anche eretica, ecco, che dovremmo fare? Stiamo lì ad attendere, è da sei anni che attendiamo che qualche cardinale, io so come finisce questa storia qui, sapete, io penso, non aspettatevi più nulla da questi cardinali, da questi vescovi che fanno un colpo alla botte, un colpo al cerchio, ma noi dobbiamo essere decisi, nessuna partecipazione alle messe unacum, perché San Tommaso d'Aquino è chiaro, come ora vedremo nelle conclusioni, sto già facendo una sintesi estrema, e cioè, peccat quicunque audit missam eorum, vel accipit sacramenta, altera sacramenta, cioè, San Tommaso d'Aquino è pecca, ed è peccato mortale, perché la materia è grave, l'eresia è materia grave, perciò, sapete che uno dei tre elementi del peccato mortale è la materia grave, peccat, quindi peccato mortale, quicunque, chiunque, audit missam eorum, chiunque ascolta la loro messa, e questi dell'unacum vanno a cuor leggero, indicano in domi nutella uno posseduto, infatti, guardate, sono veramente ormai pronto a tutto, ho detto, sono disposto a partecipare a qualche esorcismo, naturalmente non in forma plateale, raccolta perché non si gioca con le cose sacre, per far capire se poi io dico il falso o dico il vero, è San Tommaso d'Aquino che lo dice, e la prima lettera di Giovanni dice, non salutate gli eretici, e San Paolo Attito scrive, dopo una prima e una seconda volta, non avere più nulla a che fare con i faziosi, faziosi è un termine come un altro, come ho spiegato nei post che ho fatto in questi giorni, per cui si indicano gli eretici, e poi i padri della Chiesa dei primi secoli, questo l'hanno detto molto chiaramente, già nel secondo secolo Ignazio di Antiochia scrive, mi pare nella lettera agli Efesini, non andate alle assemblee, in greco ecclesiai, non andate alle assemblee, ecclesia, presiedute dagli eretici, San Girolamo nel IV secolo scrive, una pecora rognosa, se non è allontanata, passerà la rogna a tutte le altre pecore, voleva dire, e poi aggiunge, perciò raccomando che non vi, il verbo sia in greco che in latino, è contaminazione, c'è una contaminazione, è un atto che però, San Tommaso d'Aquino ha spiegato chiaramente, io vorrei sapere, questi dell'UNACUM, dove trovano il coraggio domani di andare a messa lì, dicono, io ho avuto anime mistiche attorno, ho le anime mistiche che volano come le lucciole, che poi mi hanno molte abbandonate, magari continuano ad ascoltarmi, devono sentirsi rimproverati da questo attenzione, non può bastare questo conato mistico di dire, ma io non posso fare a meno Gesù, e che noi sì, ma che cosa credi, che te sei santa, e noi siamo dei non so cosa, ma la smettano, le loro, le giustificazioni che portano quelli dell'UNACUM, sono solo pretesti, primo, il primo pretesto, ma io ho bisogno di Gesù, anche noi abbiamo bisogno di Gesù, ma San Tommaso d'Aquino dice, non andiamo dai sacramenti, celebrati dagli eretici, non perché non ne abbiamo bisogno, ma per non, come si dice, per non contaminarci, quindi non è che noi non ci crediamo al Signore, lasciamo stare gli ignoranti laici, ci sono caproni sparsi anche qui in Sicilia, Lutero 2, renderanno conto a Dio, perché il danno che stanno facendo è incalcolabile, non si accorgono che la via dell'orgoglio li conduce a Satana, Lutero 2 mi ha chiamato qualcuno, state attenti al don che vi allontana dalla presenza reale, ma la vogliono smettere, ma siano seri, è San Tommaso d'Aquino che lo dice, quindi primo pretesto, io ho bisogno di Gesù, tutti abbiamo bisogno di Gesù, non solo questi che continuano ad andare a Messa, perché anche se ci fosse Gesù, domani nella Messa celebrata sotto casa in parrocchia, e ci sono anche quelli tra noi, che ancora si giustificano questo, perché sappiate che non è una cosa da niente, questa dell'unacum è la questione decisiva, perché la Chiesa bergogliana trae soprannaturalmente potere e forza soprannaturale da tutta la gente che va a Messa in unione con, con colui che non è il Papa e che sta distruggendo palesemente, siccome è palese, persino questi dell'unacum riconoscono che è Bergoglio eretico, però ci vanno a Messa. Peccat! Peccat! Deve entrare nel cuore, perché io sono pastore! Peccat! Poi, sapete che inizierà il walzer dei profili molto eleganti che mi pigliano in giro, capito? E chi se ne frega di questi qui? Li lascia arrostire nel loro fuoco, ma io la voce la alzo forte finché posso e finché Dio vorrà, perché accadrà finché Dio vorrà. Peccat! Peccat! Lo sappiano questi dell'unacum, San Tommaso, Somma Teologica Pars Terzia, questi 82, articolo 9. Peccat! 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 Vorrei urlarlo domani, vorrei essere arrestato come matto andando nelle parrocchie, come faceva San Francesco a gridare Peccat! 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 E non parlo delle ecclesiai, il greco come le chiama Sant'Ignazio di Antiochia, dove c'è persino la compiacenza di arrostire in chiesa, di trasformare le liturgie in qualcosa che non è più il sacrificio di Cristo, di ridurre la Madonna a una donna comune e di fare dell'eucaristia a sacrificio di Cristo un pasto comune. Non mi riferisco a questi confratelli, io ne ho alcuni a Palermo che sono lieti di avere Bergoglio perché possono sguazzare nella mondanità senza che nessuno dica più nulla. Perché ormai la Chiesa è fuori controllo, figli o i cari, abbiatelo chiaro, abbiatelo chiaro, per colpa del silenzio di Benedetto XVI, che se n'è andato, Dio lo conservi a lungo, è il Papa, e per l'ingresso in Vaticano di Bergoglio la Chiesa è assolutamente fuori controllo. I preti fanno quel che gli piace, non esiste più la legge morale, non esiste più la dottrina, siamo in presenza di qualcosa di mai visto, questa è la vergogna del nostro tempo, questa roba qui, perché smentisce, come ora vi dimostrerò, duemila anni di magistero. Ma chi è Bergoglio che contraddice il Vangelo, il Catechismo di San Pio X, il Catechismo della Chiesa Cattolica e Familiaris Consortio? Come può averlo fatto? Però l'ha fatto, e i cardinali, come Burke, stanno ancora lì, io non ho capito, Schneider lo va a incontrare, ma chi va a incontrare? Ma che cosa risolvono? Non hanno capito che così facendo gli danno forza. Bergoglio se ne infischia di quelli che contrattano, e invece io vi dico che sono io, io so quello che dico, e tanti di voi ormai lo sapete, so, perché parlo con chiarezza come stanno le cose e le dico, e allora è lì che temono. Bergoglio è niente affatto il Papa, è scomunicato l'arte sentenza insieme ai cardinali consapevoli che entrati in conclave di dargli due terzi dei voti, comprati, va bene, e come si dice, pilotati, telecomandati, e, 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 anche eretico, allora, peccate, quicunque, audit, missa e oro, questo è San Tommaso d'Aquino, non è Don Minutella, fratelli e sorelle del Lunacum, io sto pregando la Madonna, ma sono certo che mi ascolta, io sto pregando la Madonna che entro fine marzo con queste incursioni, perché sapete, io ho parlato di due fuochi di sbarramento, no? c'è la falsa chiesa eretica, apostata, che con Amoris Laetitia rompe clamorosamente con la tradizione e si avvia verso, diciamo, il dialogo con il mondo in maniera veramente, direi, bizzarra, e vabbè, e uno può pregare, lotta per mettere in guardia, però dall'altra parte c'è l'altro fuoco, che queste del Lunacum stanno diventando peggiori, perché pur sanno che ho ragione, ma per non lasciare la messa, come dicono loro, la parrocchia, vanno a commettere peccato, domani chi va a messa, così è finita, ma non lo dico io, non lo dico io, domani chi va a messa con la chiesa eretica di Bergoglio, perché eretica non è che lo dobbiamo dimostrare, eretica, commette peccato mortale, e chi invece non va a messa e rimane a casa è esattamente al contrario, è quella persona lì che non commette, avete capito che tempi che stiamo vivendo o no? E non è la prima volta, Sant'Atanasio nel IV secolo ha raccomandato di non andare a messa, e gli dicevano ma padre, ma come facciamo, fra un po' casco a terra, padre, ma come facciamo, come facciamo? E Atanasio diceva quello che io dico a voi, state a casa vostra a pregare, non andate a contaminarvi nell'ecclesia degli eretici, perché commettete è peccato, domani e domenica chi va a messa consapevole che da quella parte c'è l'eresia e questi dell'unacum lo sanno perché lo scrivono nei loro profili, a me mi hanno bannato un paio di loro, ma io conosco come sempre seguo tutto, sono una centrale elettrica, seguo tutto, non mi sfugge nulla e questi allora prendono di mira Bergoglio, dicono che è eretico, però ci vanno a messa, commettono peccato mortale, un sacerdote tempo fa, un certo padre Fabiano ha scritto ad Aldo Maria Valli questo sacerdote parlando per me è caduto nelle mani di Satana perché invita i fedeli a seguire la messa su web e non andare a messa ma c'è il terzo comandamento che dice ricordati santificare le feste sì, giusto ma quando la messa non è celebrata la domenica con gli eretici con il papa eretico perché caro confratello domandalo a Satana visto che fai l'esorcista Dio mio e poi me lo vieni a raccontare perché San Tommaso dici peccat 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 vorrei che entrasse nei loro cuori ma per il loro bene peccat cioè domani chi va a messa ostinatamente lì con i bergogliani col padrenostro cambiato con quella bizzarra falsa chiesa bergogliana che va a inchinarsi a Mahometto che svende Gesù Cristo come fosse secondo Enzo Bianchi un qualunque profeta che strizza l'occhio alla mondanità che è una chiesa fatta di imbrogli di misfatti chi va a messa domani perché dice ma io non posso farne a meno casca nella trappola di Satana quando l'ho detto la prima volta levata di scudi lo dice San Tommaso d'Aquino dunque il verbo è decisivo San Tommaso che è un esperto di latino di lingua latina è appunto Tommaso d'Aquino lo mette all'inizio il verbo perché avrebbe potuto mettere quicunque audit missam e or alla fine metteva come spesso succede peccat invece lo mette all'inizio perché perché vuol farlo entrare peccat non che diciamo commette un errore errat avrebbe potuto scrivere errat quicunque allora lì potevamo stare a discutere e questi dell'unacum avrebbero potuto dire vabbè però San Tommaso d'Aquino dice che è un errore no non dice errat dice peccat quicunque audit secondo il secondo pretesto inutile dei poveri disgraziati dell'unacum speriamo si ravvedano perché la falsa chiesa sta trovando forza con questa falange avete mai visto il film Brevart quando lui sta per vincere William Wallace però poi a un certo punto arriva la falange avversaria imprevista dal colle alle spalle e la disfattano anche a Waterloo per altre ragioni Wellington così finalmente mi sono ricordato come si chiama sto benedetto generale inglese Wellington spunta da destra e Napoleone non se l'aspetta capite questa falange che sta spuntando così è molto rischiosa perché dicono che è Bergoglio eretico ma combattono con lui stanno con lui domani quando vanno a messa danno forza e potere a Bergoglio ma lo capite non è peccato non andare a messa domani visto che non c'è dove andare perché il problema non sarà che Dio chiederà conto a voi cari figlioli che la seguite da casa il Signore chiederà conto ai preti ce ne sono che lo sanno e se ne stanno lì rintanati nelle canoniche il problema è se ci andate fate peccato e questo non lo dice Don Minutella Don Minutella di suo non dice nulla la chiesa bergogliana per voi dell'unacuma eretica loro dicono sì lo dicono sì Bergoglio eretico lo scrivono posso dimostrarlo potrei fare qualche nome ma preferisco evitare perché siamo in quarescima potrei fare qualche nome per il modo con cui attaccano Bergoglio superano Don Minutella perché Don Minutella non attacca Bergoglio a me di Bergoglio non me ne infischia proprio nulla per me non è il Papa è un cardinale latino-americano con idee strambe che in questo momento risiede a Roma neanche a Palazzo Apostolico si è preso Santa Marta oh il Palazzo Apostolico è libero ditolo ai migranti no? ditolo ai migranti che c'è un Papa che si chiama tale che è a favore dei migranti e spiegategli che c'è il Palazzo Apostolico completamente libero così la smettono di dar fastidio a Salvini che dicono non voglia gli immigrati c'è un Palazzo Apostolico che è completamente libero Papa Francesco non vede l'ora di accoglierli ma scherzate non vede l'ora di accoglierli andate a vedere quanti poveri ci sono attorno al Vaticano e come talora vengono trattati ma mi fermo qui perché viviamo nel tempo della corruzione morale dell'inganno dell'imbroglio veniamo raggirati figlioli cari capito? ecco allora se noi domani non andiamo a messa che è domenica fidatevi non è peccato è peccato andarci qualora perché se c'è la vecchietta che non lo sa no? la vecchietta che non lo sa non lo sa quindi la mattina si sveglia va a messa oh eh poveraccia non lo sa fa peccato? no perché non lo sa ma tutti questi dell'unacum e parlo di certe papesse del nord Italia e di certi pontefici della Sicilia ci sono sparsi per l'Italia teologi di alto livello no? dottori angelici che volano a destra e a manca anzi sembrerebbe che abbiano perso le ali a quanto pare siano precisi non so ecco tutti lì che sanno che è bergoglio eretico e ci vanno a messa peccato peccato qui cunque audit missa meorum vabbè allora Don facciamo così sai io non ci vado a me hai ragione te però allora vado sai mio nipote si deve sposare vabbè certo si sposi pure Sadon questo tutta Italia l'ho sentito perché capito Satana sapeva che avrebbe trovato comunque un cattolicesimo da Crencaramel sapete come fa il Crencaramel si muove tutto il Crencaramel vero viaggio ecco allora però lasciamo stare il Crencaramel la prima volta che sono andato in Francia avevo 16 anni il primo pellegrinaggio all'Urde ci siamo fermati nei pressi di Lyon la sera e abbiamo magnato e finalmente hanno portato una roba che non vi dico era praticamente il torlo d'uovo battuto fatto con lo zucchero e loro lo chiamano il fruttoin io mi aspettavo chissà cosa di questo il fruttoin il fruttoin il fruttoin è arrivata questa roba così che è quasi capito ecco ecco i cattolici italiani nostri Bergoglio lo sapeva forse non lo so comunque Satana certamente sì sono cattolici alla ricotta non c'è sconsistenza non c'è determinazione sono tanto questi dubbi che mette il diavolo e questi dell'unacum però hanno una responsabilità enorme perché devono spiegare e poi loro dicono sì ma Sant'Omaso d'Aquino dice che fino alla sentenza della Chiesa riguardo al fatto che sono eretici è lecito ricevere la loro comunione si appigliano su questo ora figlioli benedetti o ci sono o ci fanno ma se colui che è eretico è anzitutto Bergoglio che sta al governo nella Chiesa ma chi caspita l'idea ma questi dell'unacum aspettano che domattina ah sì non lo sapevate domani quanto ne abbiamo domani a mezzogiorno Bergoglio si affaccia e dice buonasera e poi si rivolge a quelli dell'unacum vorrei rivolgere un appello a quelli lo sapete che sono eretico Don Minutella ha ragione ma veramente aspettano la sentenza della Chiesa ma vi rendete conto fiolicari un'altra quindi vedete che sono facilmente smontabili sì ma la sentenza la dà la gerarchia giusto? ma è esattamente dalla gerarchia che come non era mai successo prima che parte l'eresia allora ci aspetteremo ci saremmo aspettati a dirvela tutta parlo per me che Benedetto XVI qualche cosa l'ha fatta però nel linguaggio tipico delle alte sfere il popolo di Dio non ne capisce nulla il fatto che abbia tenuto la talare bianca che non abbia rinunciato al nome che si sia inventato il titolo mai esistito di Papa Emerito che lasci dire al suo segretario che ora siamo in presenza di un pontificato ministero petrino allargato allargato allora o San Pietro è diventato diciamo obeso non lo so gli ha allargato capite? c'è Benedetto XIII in definitiva i gesti per lasciare intendere che c'è qualche anomalia li ha fatti altrimenti ditemi se mi sbaglio quando gli è seccato che gli è seccato capito? questo si faceva le valigie e chissà dove se ne andava o mi sbaglio e anche da stupidi se tu te ne vuoi andare perché non reggi e poi rimani Papa e poi ricevi ancora e poi intervieni su tutto allora avrebbero ragione i detrattori di Benedetto XVI all'Andrea Grillo che è il professore che insegna alla pontificio Ateneo Sant'Anselmo a Roma che dice si stia zitto beh su questo non sbaglia nel senso se fosse vero che se ne è andato come se ne è andato invece no non c'è stata chiarezza capite di toni pazienza pazienza terza quindi vedete che se lo smantella io ho bisogno di Gesù eh sì ma non lo trovi e se lo trovi sei dei guai perché stai commettendo peccato quindi per trovare Gesù fai peccato mortale no ma però fino a quando non vengono dichiarati eretici la Chiesa non li dichiara eretici sì ma la Chiesa sono loro in questo momento si autocondannano terza vedete le loro terza dichiarazione di un paio di papessi sparsi per l'Italia sapete qual è? e il Signore lascia tutti questi milioni di fedeli senza comunione vogliono sostituirsi al Padre Eterno capito? questo moscone viene dalle parti giuste vogliono sostituirsi al Padre Eterno come? beh vogliono sostituirsi nel seguente modo devono stabilire i criteri e i momenti loro ci sono anime sparse per l'Italia a casa loro che di Don Minutella se la ridono capito? dopo averlo seguito da chi ha detto della messa invalida una cum perché no Dio non può lasciare milioni di cattolici ah sì? e io scusate se una profezia è vera dove si deve appoggiare prima di tutto? a quale fonte? la scrittura brava ma ricetta a te infatti guardavo la sacra scrittura la parola di Dio e nella parola di Dio mi pare che per gli ebrei il Tempio di Gerusalemme era impensabile che Dio potesse abbandonarlo ma Dio manda il profeta Geremia a dirlo e il Tempio di Gerusalemme gli ebrei lo prendono per bestemmiatore come quelli dell'unacum che stanno facendo con me peggio a me mi considerano proprio indemoniato va bene poi finirà come dondolindo che hanno fatto l'esorcismo e quello continuava continuava e quello ha detto senta perché non finiva mai senta monsignore qui sono due le cose o lei non sa fare l'esorcista io non sono indemoniato chiudiamola qui non se ne parla più Geremia ha annunciato la dissolzione del Tempio il Tempio è stato raso al suolo ma provate a immaginarlo un attimo a questi dell'unacum vorrei dirlo che dite ma Dio non può lasciare no Dio è libero di fare quello che vuole è stato scritto che l'ha detto il Cardinal Ratzinger quando ha parlato del Terzo Segreto di Fatima che era quella la profezia riguardava l'abominio della desolazione di Daniele 9 e Matteo 24 quindi il Cardinale ha spiegato allora Cardinal Ratzinger quindi è chiaro che tutti sappiamo che il Terzo Segreto di Fatima riguarda l'abominio della desolazione cioè che il Signore si ritira da questa falsa chiesa e che come dice Caterina è così chiaro come mai questi si incaponiscono non hanno capito che è Satana che li sta giocando io vorrei che lo capissero pregiamo preghiamo per questo siamo in quaresima preghiamo per questi fratelli io sono certo che una parte di loro si ravvederà vedo che c'è molto orgoglio e anche molta ignoranza però non è mai detta l'ultima parola poi magari qualcuno invece viene dalla falsa chiesa il contrario finisce perché questi sono proprio gli intestarditi come gli ebrei che mettono a morte Gesù dicendo che il Messia non era ancora tempo stabiliscono loro quali sono i momenti il Signore può lasciare milioni di persone e il Signore può distruggere il Tempio di Gerusalemme vi ricordate Gesù? verrà l'ora in cui di questo Tempio non resterà pietra su pietra cosa fanno i giudei? pigliano le pietre e lo lapidano Gesù deve scappare hai capito? è Gesù che lo dice verrà un momento in cui di questo Tempio dice Gesù nel Vangelo una predizione importante non resterà pietra su pietra è accaduto nel 70 dopo Cristo Dio che governa la storia permette che l'imperatore Tito arrivi a Gerusalemme e non immaginate quello che è accaduto c'è il Tempio che era stato peraltro ricostruito dopo aver stato già distrutto una prima volta secondo le profezia di Geremia e poi con la profezia di Gesù il Tempio viene di nuovo distrutto quindi il Tempio è stato distrutto due volte dove abitava Dio e forse Dio non è libero di annunciare col terzo segreto di Fatima che avrebbe lasciato che accadesse questo perché Dio lo sta facendo adesso se me lo chiedessero vogliono sapere assai capito? ecco bene allora vi stavo dicendo però e poi andiamo ai documenti che alcuni mi dicono sparsi per l'Italia i cattolici Crencaramenn mi dicono Don io non ci vado più a messa bene bene sono contento e sto contento come dice quello lì poi però perché quando ti avvicinano entusiasti vuol dire che c'è un però io ho mai imparato quando mi scrivono quando mi telefonano quando mandano messaggi Don tutto molto bello quello che sto dicendo io dico allora vuol dire che già però volevo dire però Sadom mio nipote si deve sposare mia figlia si deve maritare mio cognato deve morire pensano al funerale davvero sembra una battuta ma è una cosa che mi è accaduta mio cognato deve morire io l'ho detto al signor Momento anche noi però voleva dire subito noi facciamo i funerali l'estremunzione come si fa? quindi vale solo per la messa la domenica i battesimi le cresimi le eucaristie no peccat eccolo qui summa teologie peccat quicunque orum missam audit vel abeis accipit sacramenta e accoglie riceve gli altri altera sacramenta io so perché questo altera io altera perché altero altera sacramenta pertanto fiori cari non dobbiamo andare a nessuno dei sacramenti celebrati e dispensati dalla chiesa eretica di Bergoglio questo deve essere chiaro sempre più chiaro per il piccolo resto io so che questo comporterà secondo me e che importa si realizzano le profezie Caterina Emmerich che l'aveva detto che ci sarebbe stato un piccolo resto gli altri vadano pure vadano se ne renderanno conto Dio chiederà il loro conto e per noi però che non andiamo vale quello che dice Santo Maso d'Aquino guardate cosa dice permettetemi di leggervelo in latino ma non per vezzo ma per una cosa molto bella che Santo Maso dice è commovente per quello che noi stiamo vivendo siamo pochi però lo capiamo dice Santo Maso d'Aquino quando noi rifugiamo dall'ascoltare talibesse parlo per quelli che domani la seguiranno su Radio Domina per questo senso vorrei ancora una volta esprimere una gratitudine immensa a Don Enrico per il lavoro prezioso che sta facendo ci daremo da fare celebreremo le prime comunioni le prime comunioni i battesimi ho già celebrato dei battesimi dispensiamo i sacramenti per i quali non essendo eretici ed essendo rimasti cattolici fedeli al magistero di sempre non commettiamo peccato ma avete capito che situazione stiamo vivendo o no? è questo il punto è questo il punto e dice ancora Santo Maso d'Aquino non rifugiamo dai sacramenti di Dio perché ci dicono che noi commettiamo peccato mortale se non andiamo a messa la domenica è capito? no noi non rifugiamo dai sacramenti di Dio ma piuttosto guardate che bellissimo Potius è a veneramor li rispettiamo abbiamo un senso di venerazione verso la Santa Messa verso il battesimo verso la Cresima verso le Esequies l'unzione dei malati e il matrimonio sono sacramenti che noi rifugiamo ma non perché li detestiamo vogliamo commettere peccato ma perché siccome celebrati dagli eretici noi li vogliamo noi li vogliamo rispettare i sacramenti che via d'uscita possono avere secondo voi questa sera i quelli dell'unacum perché ce ne sono di quelli che ascoltano e penso che lo immaginiate che via d'uscita possono avere che via d'uscita possono avere non lo so non lo so che via d'uscita possono avere non lo so non potranno dire però che non sapevano questo mi dispiace per loro alcuni sì che sono quelli che anziani magari ma non loro ecco ora io questa sera voglio farvi vedere una cosa molto chiara questo documento qui dove compare Bergoglio così sorridente è un documento al veleno è un documento scandaloso è un documento programmatico è un documento che entra nella storia per la prima volta dalla penna diciamo così del Papa e dico del Papa perché quando è uscito anch'io pensavo ancora perché tanti questi del Lunacumba hanno cercato anche di squalificarmi che hanno mandato in onda dei video dove io celebravo il mio compagno Francesco e beh anzi è esattamente al contrario mi fa onore questo perché dimostra per i preti che ancora tentennano che io non sono nato con la camicia ho fatto anch'io un cammino mi sono reso conto il cielo mi ha illuminato io poi ho diciamo approfondito e due più due fa quattro non cinque o tre mi seguite quando questo documento è uscito nel 2016 io cominciavo a dare già le idee molto chiare il documento si chiama esortazione apostolica sull'amore nella famiglia è un documento di più di quattrocento pagine nella versione originale qui arriva a trecento dove per dire la cosa che interessava Bergoglio si usa una nota a pie di pagina la nota trecentocinquantuno in questo testo qui Bergoglio scrive così notate lo stile ormai dovreste coglierlo trecentocinque il punto non la nota questo è il testo pertanto un pastore non può sentirsi soddisfatto solo applicando leggi morali a coloro che vivono situazioni irregolari capite il linguaggio è sempre quello diciamo ambiguo no sibilino come se fossero pietre lo stile è sempre quello noi che vogliamo rimanere ancorati alla tradizione siamo implacabili siamo implacabili qui c'è dietro come retroterra l'adultera alla quale però Gesù la salva però alla quale dice va e non peccare più non dice vive la situazione irregolare non dice vatti a leggere la nota che ho scritto a piedi pagina non dice rimani nel peccato dice va e non peccare più non c'è nel testo Bergoglio ha alterato il Vangelo figlioli cari e tutti e tutti si prostrano per paura Bergoglio ha cambiato il Vangelo di nostro Signore Gesù Cristo sul tema del matrimonio e questo è inconfutabile poi possono venire i Bergogliani che dicono ha fatto bene bene tenetevelo ma l'ha cambiato l'ha cambiato mai nessun papa neppure Alessandro VI che aveva le concubine ha toccato il depositum fidei mai nessun papa non è mai accaduto figlioli cari non so se voi sapete che esiste un'opera si è del pastor è un'opera che racconta le vite dei papi io non ce l'ho perché è un'opera del passato costosissima ma che dice proprio è interessante leggerlo papi farabutti che si veniva a scoprire cose dell'altro mondo che però sul piano della confermare i fratelli e la fede non cambiavano una virgo in duemila anni sul tema per esempio del matrimonio dell'adulterio e perciò dell'eucaristia da dare agli adulteri non c'è mai stata una flessione minima mai Bergoglio ha cambiato tutto ma lo fa con lo stile sì però no no però sì va anche come dice Aldo Maria Valli è il caso dei cuori chi sono questi che di fronte alle situazioni irregolari si comportano in modo diciamo duro è il caso dei cuori chiusi che spesso si nascondono dietro gli insegnamenti della chiesa ma vi rendete conto che questo questo io veramente dico ma è roba ma davvero è uscito fuori dal Vaticano questo scritto qui a causa dei condizionamenti o dei fattori attenuanti è possibile che entro una situazione oggettiva di peccato si possa vivere in grazia di Dio non è scioccante io trovo che siamo alla frutta vadano vadano a messa con gli eretici peccate quicunque audit missam eorum a causa dei condizioni questa si chiama ma non ho il tempo di approfondirla la casuistica la situazione la diciamo la morale della situazione ho studiato lo sapete alla gregoriana quindi queste cose le so bene sapete che ho studiato la gregoriana quella vicino Fontana di Trevi la situazione bisogna studiare perché è possibile che due adulteri abbiano la grazia di Dio si possa vivere in grazia di Dio si possa amare e si possa crescere nella vita di grazia e di carità ricevendo a tal punto a tal scopo l'aiuto della Chiesa allora scoppa la scintilla e come dire scoppia la scintilla scusate se banalizzo ma ho un dolore nel cuore veramente io dico la Madonna ma perché te mi hai fatto nascere in questi tempi qui che sono uno che non ci sta a vedere questi cardinali vescovi e dell'unacum tutti questi supini di fronte all'eresia peccant ma fan finta di nullant scoppia la scintilla e casca la nota in nota vuole dire Bergoglio vuole dire quello che vuole dire ma non lo dice nel testo lo dice nella nota infatti quando l'aereo tornava dalla Grecia qualche anno fa e un giornalista gli scappò di domandare di santità ma come mai in 400 pagine la cosa più importante dice la nota si è arrabbiato si è arrabbiato dice che dentro l'alcadina è lui che quindi in fondo come sempre non risponde in nota leggiamo documento pontificio lo chiamano che però è uno spartiacque quindi è lui e tutti quelli che lo seguono che sono andati fuori o mi sbaglio dobbiamo essere sereni piccolo resto è venuto il momento di darci da fare con noi stessi che ce ne importa di quello che dicono con noi ci possono far del male no siamo incostituzionali rispondetemi no l'articolo 9 mi pare 19 della costituzione italiana prevede che ci si possa aggregare in qualunque modo purché lo si faccia nel rispetto delle norme civili quindi non siamo incostituzionali o come si dice clandestini ci lasciano in pace ma noi abbiamo la certezza che è stato Bergoglio che si è tirato fuori anche se abita in Vaticano la nota in certi casi quindi sta dicendo che due e infatti per quello per esempio Bergoglio approva moltissimo come sapete incoraggia la convivenza perché ci può essere la grazia di Dio capito in certi casi potrebbe essere anche l'aiuto dei sacramenti ecco la bomba atomica è scoppiata abbiamo avuto nella chiesa cattolica Hiroshima Bergoglio e Enola Ghei sapete cos'è Enola Ghei? oh non sapete niente ma l'aereo si chiamava Enola Ghei quello che ha sganciato la bomba atomica è il tale che l'ha sganciata poi è uscito matto sapete per il rimorso sì perché nel corso degli anni ha visto che cosa ha prodotto la bomba e si è sentito lui responsabile quando in realtà lui obbediva a un ordine ad ogni modo Bergoglio è l'Enola Ghei che ha sganciato Amoris e Letizia che è la bomba atomica di Hiroshima perché aggiunge per questo ai sacerdoti ricordo che il confessionale non deve essere una sala di tortura bensì il luogo della misericordia leggi perdonamo a tutti si dice dalle mie parti no perdono per tutti il misericordismo che è un dispensare la misericordia senza esigere il pentimento infatti io ho letto un testo di Enzo Bianchi amico di Bergoglio che commenta il brano dell'adultera e tu è bellissimo quel commento lì e ce l'ho a casa bellissimo lo vai a leggere e che cosa ti accorgi che commenta tutto il brano tranne il momento in cui Gesù dice va chissà perché gli è sfuggito Enzo Bianchi come quando commenta il prologo lo commenta tutto chissà perché salta 1.14 e te verbo un caro fa chissà chissà e secondo me dovrebbe fare una buona visita oculistica ugualmente segnalo che l'eucaristia non è un premio per i perfetti questo è un altro slogan ma un generoso rimedio è un alimento per i deboli e qui c'è un cambiare anche qui la parola di Dio perché Paolo nella prima lettera ai Corinti al capitolo 11 che è il più antico testo eucaristico dice ciascuno quindi prima di accostarsi a ricevere il pane esamini se stesso la propria coscienza e solo dopo mangi perché chi mangia in peccato è reo di colpa qui in Bergoglio dice invece ma lasciatelo stare Gesù di Nazareth e te Paolo ci sono io che ora vi spiego come dovete fare fatevi la comunione è apertura allora uno si domanda un momento chiudiamo perché poi tutta l'introduzione è anche molto bella ci sono passaggi commoventi ma è il finale che avete visto eretico clamorosamente rompe con la tradizione come fra un paio di minuti vi dimostro allora uno chiude questa bomba atomica e la posa e si domanda come io mi sono domandato ma Bergoglio allora in questo testo consente la comunione ai divorziati risposati dite sì no ma non c'è scritto dice in alcuni casi si potrebbe attenti si potrebbe allora i cardinali i quattro cardinali due dei quali già sono col padre eterno hanno scritto in dubbia il santo padre ci è legittimo chiedervi chiederle se lei voleva dire sì o no perché se lei dice sì lei è eretico ma non mi pare non ci pare hanno detto i cardinali che le abbia avete capito come sta funzionando non ci pare che le abbia detto no ha detto sì o ha detto no non ha risposto ai cardinali solo che purtroppo i cardinali si sono piegati al potere di Bergoglio come io invece non lo faccio costi quel che costi costi quel che costi figli cari perché con questi bisogna parlare con chiarezza poi la storia farà il regolamento dei conti come sempre accade perché i due cardinali rimasti vivi seguitemi se fossero stati coerenti fino in fondo sono passati quattro anni dai dubbia tre anni avrebbero dovuto dire come sanno che la dottrina tomista di santo Maso di Guino insegna se un superiore in questo caso il papa non risponde laddove è sospettato di eresia è un inferiore ha il dovere di chiedergli di chiarire se il superiore non risponde decade ogni potere giurisdizionale e il suddito non è più tenuto a obbedire che cosa ancora ci aspettano sono atrofizzati non verrà nulla da loro io sono qui mi capite ma da loro non verrà nulla perché hanno già perso il tempo Dio li ha già abbandonati ai loro calcoli umani perché dovevano subito dire non ci rispondi bene allora Bergoglio sei eretico e sei fuori dalla chiesa con tutti quelli che ti seguono che stanno lì a discutere non abbiamo soldi siamo pochi e poi chi è il nostro papa ma la smettano non hanno capito che non bastano questa qui ci vuole la luce della profezia perché stiamo vivendo il terzo segreto di Fatima Bergoglio non risponde ai dubbi e allora e allora ognuno si arrangi per cui abbiamo visto mentre io venivo sollevato vi ricordate dalla parrocchia era il periodo in cui la conferenza dei vescovi tedeschi dice a Moris Letizia chiaramente dice di dare la comunione di versetti risposati in Germania si dà la comunione di versetti risposati la conferenza episcopale dei vescovi polacchi Germania e Polonia sono accanto due nazioni accanto dice no per noi ma è chiaro che ognuno quelli di Malta poi la Sicilia eh 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 sì ora ci arrivo all'Argentina ma quello che volevo dire invece è un'altra cosa prima dell'Argentina notate che ha detto un vescovo americano scusate ve la dico così come l'ha detta lui ve la traduco in italiano scusate ve la devo dire così come ha detto lui conosce bene Bergoglio questo vescovo e ha detto così Bergoglio voleva il casino nella chiesa due punti operazione riuscita perché a questo punto non si capisce più bene il magistero liquido che cosa propone sì o no ma insomma Bergoglio ha detto sì o ha detto no dopo 400 pagine ai cardinali non ha risposto ha lasciato che i vescovi delle varie nazioni si si come si dice scontrassero tra di loro finalmente il colpo di scena di furbizia di Bergoglio è quello che i vescovi dell'Argentina dicono per noi quando Bergoglio il Papa scrive e in alcuni casi significa che lui dà disponibilità ai divorziati e ai divorziati di fare la comunione Bergoglio senza intervenire vuole che questa dichiarazione dei vescovi argentini venga inserita negli acta apostolice sedis che diventa dunque documento ufficiale e le je son fait casino royal le je son fait casino royal la chiesa cattolica è diventata le casino royal dove ognuno fa quel che caspita gli pare se è il Papa che lascia aperta ma non sono ha fatto questo ha rotto con la tradizione questi ultimi minuti io ve lo dimostro ho portato con me potevo portare tanta altra roba ma insomma questo qui è il catechismo della chiesa cattolica pubblicato non nel dodicesimo secolo ma soltanto nel 1900 ero sicuro che me lo sarei scordato con i numeri io sono regato 92 dicembre 1992 e c'è la tematica dei divorziati risposati 1992 guardate cosa dice il catechismo al numero 1650 oggi in molti paesi sono numerosi cattolici che ricorrono al divorzio secondo le leggi civili e che contraggono civilmente una nuova unione la chiesa sostiene per fedeltà la parola di Gesù Cristo Marco 10 11-12 chi ripudia la propria moglie ne sposa un'altra commette adulterio contro di lei che non può riconoscere come valida una nuova unione se era valido il primo matrimonio se i divorziati sono risposati civilmente essi si trovano in una situazione che oggettivamente contrasta con la legge di Diora io a voi che siete qui cari miei che mi state sorbendo per un'ora vi domando ma c'è o non c'è contrapposizione fra questi due documenti e qual è quello giusto questo o questo perché continuità di tradizioni come dice continuità di si parla di continuità del dogma della fede non c'è qui questa è rottura questa è la chiesa cattolica il piccolo resto e questa è la falsa chiesa bergoiana perché è chiaro che non dicono la stessa cosa ma nessuno sembrerebbe accorgersene solo Don Minutena se ne accorge che le piglia pure da quelli dell'unacum perché gli dicono che è a Satana dentro perché invita a non andare a messa allora Sant'Omaso d'Aguino aveva sette legioni di diavolo era perduto Sant'Omaso d'Aguino perciò essi non possono ma perché mi arrabbio pregate per me io mi arrabbio ma non è rabbia umana è sofferenza veramente vi dico cercate di capire io prego lo Spirito Santo a voi che siete a casa e a voi che siete qui che dovreste capire che c'è sofferenza perché adesso vedete Satana non si arrende ha paura delle cose che dico il diavolo e non solo il diavolo infatti stanno intervenendo adesso già dei satanisti che bestemmiano in diretta mi stanno dicendo io non ho seguito ma ho visto così con la coda dell'occhio ci sono bestemmie in diretta è chiaro Satana manda i suoi capite Satana manda i suoi perché? perché ha paura delle cose che io dico perché Satana è il ragno che fa la ragnatela la ragnatela è l'unacum la ragnatela è la farsa chiesa bergogliana che intrappola tutti tranne il piccolo resto però forse a forza di continuare con questa chiarezza che io porto avanti e poi so io come li pago se gli amici dell'unacum Dio gli rivelasse come le pago le cose che dico forse si ricrederebbero anziché ritenere che sono poi poi dicono sempre le stesse cose sono orgoglioso superbo satanasso capite? documento del 92 catechismo non si può essi non possono accedere alla comunione eucaristica per tutto il tempo che perdura tale situazione ma dal titolo del catechesi stasera io concludo con familiari sconsorzio che cos'è questo documento? questo documento fa così capito? scintille questo è Giovanni Paolo II 1981 anche questa è un'esortazione apostolica di Giovanni Paolo II sui compiti della famiglia cristiana beh è un po' datato sì però al numero 83 e non scusate al numero 84 affronta il tema dei divorziati risposati ascoltate attentamente attentamente la chiesa ribadisce la sua prassi 1981 abbiamo visto 92 al ritroso 81 più ritroso 2000 anni fa anche se non c'erano i registratori comunque l'ha detto se non bastasse nostro signore Gesù Cristo fondata sulla sacra scrittura di non ammettere alla comunione eucaristica i divorziati risposati ma che insolenza quella di Bergoglio è io vi dico ha avuto coraggio ci vuole uno che abbia il coraggio che ha avuto lui eccone uno qui ce n'è uno purtroppo sono solo prete ma io ho capito che Bergoglio è uno da ammirare per il coraggio che ha avuto di fare quello che nessun papa aveva mai fatto ecco da qui da quest'altra parte c'è uno che siccome il diavolo lo conosce bene fin da quando sono piccolo ho il trattanto coraggio di fronteggiare non ho paura io fronteggio con la verità come Davide contro Golia e veramente vado nel nome del Signore perché fino a prova contraria lo dice questi qui che mi vengono addosso si tengano Nostro Signore Bergoglio noi ci teniamo Nostro Signore Gesù Cristo che dice che non è ammissibile agli occhi del Padre Celeste la situazione irregolare dei divorziati Bergoglio ha cambiato tutto ecco allora il significato del titolo rottura e inganno del Cardinale Bergoglio bene carissimi ai bestemmiatori mandati da Satana io dico vada e retro Satana hai già perduto guarda chi ti vince eccola qui lei ti schiaccerà la testa hai ben poco tempo ormai la Madonna sta per vincere e noi stiamo con lei su tutti voi la benedizione di Dio Onipotente Padre Figlio e Spirito Santo Amen sia lodato Gesù Cristo avanti con me